Dino Bitetto, allenatore dell'Odace Cerignola, altra sfida importante, quella di sabato contro il Nardò, una squadra che sin qui ha ben figurato in questo girone. Sì, una squadra che ha iniziato anche non al meglio questo inizio di campionato, però adesso è in piena ripresa, ha annellato una serie di risultati positivi anche contro squadre importanti, vedi anche la vittoria col Taranto sul proprio campo, un campo comunque difficile anche perché è ben allenato, è una squadra ben allenata e ben allestita. Ecco, qual è l'insidia di questa gara? La prima insidia è quella del terreno di gioco, è chiaro che per noi abituati a giocare sul sintetico, bello livellato è sempre uguale, andare su un campo erboso, però mi dicono, come era anche l'anno scorso, alquanto irregolare per noi è un'altra, ecco, messa alla prova, però ci siamo anche abituati comunque mentalmente ad affrontare questa partita. Ecco, una sfida che è importante per tanti motivi, si tornerà a giocare mercoledì qui al Monterisi contro il Granata e in concomitanza ci sarà un altro big match che vedrà a confronto Taranto e Picerno. Anche se è mercoledì, è vero che non giochiamo la domenica successiva, anche se è mercoledì per me è molto lontana come data, per cui noi dobbiamo veramente pensare a questa prima gara che andiamo ad affrontare a Nardò. Sul mercato che è cominciato da qualche giorno, cosa possiamo dire, mister? No, che non ci saranno stravolgimenti, insomma, giusto qualche ritocchino come si usa adesso nella chirurgia estrema, quella serie che si vede su Sky, giusto un ritocchino anche perché non abbiamo, questa è una squadra, adesso è un gruppo che ha ben mostrato e sta migliorando sempre di più, sta prendendo sempre maggiore consapevolezza nel nostro modo di giocare, ma soprattutto nelle loro qualità individuali e anche di collettivo. Ecco, lei ha parlato molto in questi mesi di gruppo, oggi quel gruppo c'è e si vede. Io preferisco sempre parlare di squadra, la squadra la si vede in campo e poi loro sono bravi, la si vede in campo perché loro in campo si ritrovano, parlano lo stesso linguaggio e mostrano sempre di più di poter fare sempre meglio. E poi loro sono bravi anche come gruppo perché fuori dal campo, nello spogliatoio e fuori dal campo e le varie individualità riescono a stare insieme molto molto bene, a relazionarsi e anche a parlare di quelle che sono le nostre convinzioni e soprattutto il nostro obiettivo da raggiungere. Ciro Foggia attaccante dell'audace Cerignola, sabato a Nardò un'altra sfida delicata. Sì, sabato come tutte le partite è una partita molto difficile perché comunque il campo non è in buonissime condizioni, è erba naturale, non siamo abituati sempre al sintetico, però come sempre ci metteremo nel nostro. Un buon momento personale per te, naturalmente la speranza è quella di ripeterti sempre. Sì, sì, sono contento di quello che sto facendo, sicuramente si può fare di più, però sia io che la squadra con cui stiamo passando è un buonissimo momento. E con un grande gruppo che sta venendo fuori alla grande di domenica in domenica? Sì, questa è la prima cosa, il gruppo è sano, fatto di ragazzi importanti, seri e quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo.